Solitamente una delle lezioni che ho imparato su Dokkan è non pullare il giorno stesso, però me ne sto un po' fregando perché alla fine è ok. Questi due giri in realtà non è che non dico che non mi convincono molto, ma sicuramente meno di lui. Tra i due che sono usciti adesso mi convince più Gohan. Andiamo a farci un giro, almeno un giro, abbiamo 250 stone, quindi meno di due giri. Dire di cominciare subito e non perderci spiegare il troppo subito così vado direttamente da Broly, cose del genere, ma non credo proprio. Sembra però ci sono anche nuove animazioni qui dentro. La qualità ha detto, pazzesco. Però, oh, vero, ci sono nuove animazioni, effetto. Bello. Ha detto qualità, quindi un LR sicuro ci sarà. Però sai, non è che mi interessi così tanto la decisione leve, ma non è che ci sia quello che voglio, perché non voglio spendere altri tipo 700 stone per trovare il PG come ho fatto l'altra volta, per Broly Tech. Mi è bastato l'avanzato, davvero non... Bello. Oh, fake out! Ti devo dire, non ce l'avevo, non ce l'avevo, quindi penso vada bene, in realtà tutte le due non ce l'avevo, quindi ti devo dire, due PG non avevo, anche se uno è abbastanza inutile, ma continuiamo. Speriamo che questo l'ho trovata meglio. Una bella zona animazione. C'è Beerus, ma non penso che è. Niente qualità, peccato. Bello, bellissimo. Wow, ok, qua nulla completamente. Mi dai la soddisfazione di avere... Di essere... Mi dai la soddisfazione per caso di farmi spuntare un SSR da caso? Che ne sai, può essere un LR? In realtà lui ce l'avevo, vabbè, vieni per otti. Ultimo... Ultima stone... Sì, vabbè. Oh mamma mia, ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Una bella, giusto? Ti devo dire, non lo dirò a Marcus che altrimenti QF... Uh, bello. Oh wait, va bene. Mi sono andato abbastanza bene oggi, forse la sfiga del primo giorno se ne è andata. Però dai, sono abbastanza contento, convinto. Non chiedo più altro, non chiedo più altro, non davvero, non mi sto lamentando. Dammi gli altri due SSR. Vabbè, vabbè. Fake out, vabbè. E lui non ce l'avevo. Mamma mia, ma che sto dicendo? Ma che puli incredibili sto facendo? Andiamo qui. Che c'è qua? Non me lo ricordo. Che devo fare? Oltre questo non posso fare nulla. Vabbè, ci sono alcuni PG buoni. Abbiamo due ultimi, non possiamo fare molto. Nemmeno... Esatto, nemmeno quello. Nemmeno un giro. Ma vabbè, se noi ci proviamo, a quanto pare la fortuna oggi ci sorride molto. Quindi a me sta benissimo. Vabbè, niente, icca, qua. Qua niente. Nulla, nulla. Vabbè, ci sta. Non chiedo nient'altro, mi sta benissimo. Abbiamo un SSR a caso. Sto benissimo. Comunque qua siamo su Dokkan Fest, quindi... In realtà io non so se c'è la terza parte, ovviamente io mi fermerò delle stone. Continuerò a pullare perché c'è il Pity, no? E quindi... Cercherò di prendermi un personaggio, quelli che non ho preso. Metti caso. Ora riesco a prendermi i Brody. Ok? E il trio della prima parte non ce l'ho. Se non dovesse uscire più PG nella terza parte, io mi avrò a prendere il trio. Sempre se non riescono PG nella terza parte, perché comunque sarebbe... Abbastanza... Difficile. Mettiamolo così. C'è Vegeta. C'è Vegeta, dai, eh. Non puro su un Dokkan Fest dall'anniversario. Perché... Nella prima parte non l'ho veramente toccato. Perché Brody era più... Più Brody. Mettiamolo così. Ok, lui non ce l'avevo. Penso che mi era bene, non lo so. Posso giocarlo con quello tech che ho trovato prima, non lo so. Ci sta, va bene. Più che altro... Come faccio a farmarmi 50 stone velocemente? Lasciamo 6 perché devo restare qua un sacco di tempo, quindi... Meglio di no, mettiamola così. Però direi che è andata abbastanza bene, sono... Sono contento. Sono contento. Non ne ho tantissimo. Non penso di non arrivare a 500, perché quando sono... 2000 stone... Tipo... Mmm... Sì, è un po' troppo difficile. Vabbè. Prima che scadere il tempo, al massimo poi me li trasformo in coi normali. Penso in Carnival. Tanto quelli di Dokkan Fest ce li ho... Ne ho 1300. Quelli Carnival ne ho 400, quindi... Va bene così. Grazie per la visione. Grazie anche a Dokkan per essere stato gentile questa volta con me. Grazie mille. Buonanotte. A tutti.